Nel progettare e implementare la funzione Cina che aggiunge in testa a lista i nuovi dettagli di uno scontrino, non abbiamo ottenuto conto di una prova del 9, diciamo così, che dovremmo sempre effettuare. Rispondendo semplicemente a questa domanda, le istruzioni che abbiamo scritto, nello specifico sono queste, vanno bene anche quando la lista è vuota? Cioè vanno bene anche quando stiamo aggiungendo in testa il primo nodo? Perché quando la lista è vuota, cioè la testa, head, ha come valore di indirizzo il null pointer, siamo in situazione un po' critica e non sempre la risposta è un sì. Nel caso dell'inserimento in testa non ci sono problemi, aiutatevi sempre con un disegno e aggiornatelo eseguendo le istruzioni. Qua la prima operazione è agganciare all'indirizzo della prossima riga di dettaglio quello che in questo momento è il valore memorizzato nella testa, cioè il null pointer, che se ci pensate è proprio quello che vogliamo, perché quando questo diventerà il primo e unico nodo della lista, dopo di sé non avrà nulla. Head assegna nuovo. Va bene. Significa copiare nel puntatore head l'indirizzo del nuovo nodo. Il risultato è questo. Proprio una lista con un solo nodo inserito. Tutto ok. Ma non è sempre così. Infatti, implementando adesso l'algoritmo di inserimento in coda, scopriremo che dovremo per forza differenziare. La lista è vuota? Allora procediamo così. Non è vuota? Allora cos'ha? Cominciamo con il considerare il caso in cui la lista non sia vuota. Quindi questo diagramma rappresenta la situazione. L'obiettivo è quello di cambiare l'indirizzo null pointer del puntatore next prossimo dell'ultimo nodo che è attualmente in lista e dargli l'indirizzo del nuovo nodo. Quindi questo null pointer verrebbe cambiato in modo da avere in realtà l'indirizzo di quello che deve diventare l'ultimo nodo della lista, cioè il nuovo nodo. Poi immaginate di stirare e portare in questa posizione il nuovo nodo e avremmo ricostruito la struttura della lista come deve essere. Ovviamente non dovremo dimenticarci poi di mettere nell'indirizzo next del nuovo nodo il valore null ptr, visto che poi è lui il nuovo ultimo nodo della lista. Quest'operazione di aggancio però non è possibile farla subito perché, pensateci un attimo, dobbiamo modificare la casellina corrispondente a questo indirizzo riga 4, ma per poterlo fare abbiamo bisogno di un puntatore a questo nodo. Con un puntatore a questo nodo potremo poi con la freccetta scrivere puntatore freccia next e assegnare a questo puntatore nuovo. Insomma, dobbiamo cercare la fine della lista. Lo faccio utilizzando un puntatore ausiliario che ho chiamato cerca fine lista. All'inizio gli darò lo stesso valore che è memorizzato in head, cioè lo farò puntare al primo nodo della lista, e con un ciclo while mi sposterò da un nodo al successivo, dando a cerca fine lista ogni volta il valore next del nodo su cui sono, spostandomi, come già abbiamo visto con la stampa, da un nodo al successivo, finché mi accorgerò che il nostro cerca fine lista è arrivato sull'ultimo nodo. Com'è che me ne accorgo? Mentre con la stampa andava bene lasciare assumere al puntatore ausiliario, ricordate, andare avanti finché diventava null, perché anche l'ultimo nodo deve essere consumato, qua dobbiamo fermarci un colpo prima, perché se lascio che il fine lista diventi uguale al puntatore next dell'ultimo nodo, che è null pointer, poi questo non sta puntando al nodo di cui vogliamo cambiare il next. L'abbiamo superato, quindi il ciclo dovrà fermarsi quando siamo su un nodo il cui puntatore next è null pointer, perché vuole dire che siamo proprio sull'ultimo nodo della lista. Raggiunto questo obiettivo parziale sarà facilissimo completare il tutto, utilizzeremo questo puntatore per accedere al next dell'ultimo nodo, gli daremo come indirizzo il nuovo e poi copiare null.tr, null.ptr nel next del nuovo nodo. Finito. Passiamo al codice. Primo dubbio, in questo inserimento in coda, ma devo passare per valore o per indirizzo? La testa della lista, head, il puntatore head. Ma apparentemente no, visto che devo raggiungere la fine della lista e vado a lavorare qui, non devo modificare il valore di questo puntatore, giusto? Questo ovviamente c'è sotto un trabocchetto, ma per il momento, ingenui, ingenui, procediamo. Vi anticipo quindi che è un errore perché ci vuole, ampersent, ma al momento trascuriamo questo particolare. Viceversa, questo va bene, passo il puntatore al nuovo nodo. Dichieriamo il puntatore cerca fine lista e gli diamo come valore di partenza, come si diceva, lo stesso indirizzo che c'è in head. Anche lui, in questo momento, sta puntando al primo nodo della lista. La ricerca dell'ultimo nodo. Quindi l'obiettivo è fermarsi quando questo puntatore ausiliario è sull'ultimo nodo, ha l'indirizzo dell'ultimo nodo. E lo riconosco dal fatto che se vado a controllare la parte puntatore di quel nodo, scopro, ci trovo il null PTR. L'unico nodo della lista ad avere come next il null PTR è infatti l'ultimo. Per cui, finché il puntatore next del nodo su cui siamo è diverso dal null PTR, dobbiamo avanzare di un'altra posizione verso la fine della lista. Cioè, in cerca fine lista, mettiamo il next del nodo a cui sta puntando in questo momento. Dopo il ciclo, non rimane che assegnare al puntatore di quello che in questo momento è ancora l'ultimo nodo, l'indirizzo di quello nuovo, che quindi viene aggiunto dopo di lui. E non dimentichiamoci, perché non è assicurato, non possiamo fidarci a meno di un protocollo d'uso che indica come precondizione per poter chiamare l'inserimento in coda, assicurarsi che sia già presente il null PTR qua nel nodo che viene passato, altrimenti non fidiamoci, in modo esplicito assegniamo il null PTR noi al puntatore next di quello che adesso è diventato il nuovo ultimo nodo. Speranzosi, ma una sorpresina è dietro l'angolo. Andiamo a modificare il ciclo for cambiando l'inserimento in testa con quello in coda. E il risultato è un fantastico crash. Ci siamo dimenticati di porci la domanda prova del 9. Ma il codice che abbiamo scritto, che vi confermo, va bene. Ma non va bene proprio quando dobbiamo inserire il primo nodo, cioè il nostro codice gestisce anche, senza modifiche, il caso lista vuota, che è anche il primo che si presenta ovviamente, risposta no. Infatti quando la lista è vuota, il valore che è memorizzato in head, la testa, che cos'è? Null PTR. Ma diamo un'occhiata allora al codice. Controllare a testa bassa se cerca fine lista, che avendo ricevuto lo stesso valore di head in questo momento è null pointer, ha la parte next diversa null pointer, implica il tentare di accedere a un qualcosa che non c'è. Cerca fine lista è null pointer. Null pointer, operatore di dereferenziazione rispetto all'estrat, uguale a un bel crash, perché non c'è nessun elemento puntato da cerca fine lista. Questo va bene solo se c'è almeno un nodo in lista. Per cui dobbiamo differenziare con un bel lift il caso la lista è vuota, la lista non è vuota. Così, tutto sommato in modo assai semplice. Se il puntatore head è uguale a null PTR vuol dire che stiamo lavorando su una lista che è vuota. Adesso potremmo certamente organizzarci con le istruzioni che però abbiamo già scritto di fatto nella funzione di inserimento in testa. Perché quando la lista è vuota, se ci pensate un attimo, inserire in testa e in coda è la stessa cosa. E allora, tanto vale chiamare la funzione già pronta e testata, inserisci in testa, che poi è anche in coda, in questo caso passando lo stesso head ricevuto e lo stesso puntatore al nuovo nodo ricevuto. Altrimenti va bene il codice scritto prima. Eccolo qui. State attenti a mettere le grafie proprio all'inizio e alla fine dell'algoritmo. Tutto a posto? Beh, diciamo che almeno non va in crash. Ma se provate ad eseguire, dove sono finiti i nodi? Apparentemente, anzi, non apparentemente, di veramente non ha aggiunto nulla. Tornate con la mente quel piccolo particolare, quel piccolo dubbio iniziale. Ma devo passare anche all'inserimento in coda per indirizzo head? Disposta sì. Sì, perché proprio quando bisogna aggiungere il primo nodo, cioè all'inizio di tutto, deve essere modificato head, perché da null pointer deve diventare l'indirizzo del primo nodo. Poi da questo punto in poi, in realtà, il head non dovrà più essere modificato, perché andremo ad aggiungere dopo questo primo nodo. Ma per poter gestire correttamente proprio l'inizio del tutto, è necessario prevedere il passaggio per indirizzo di questo puntatore, con la e-commerciale. Ritentiamo l'esecuzione ed ecco la nostra lista correttamente costruita. Notate una cosa. Questa volta la stampa procede in ordine, perché prima viene inserito il prodotto 0, dopo di lui il prodotto 1, dopo di lui il prodotto 2 e così via. La stampa poi procede dalla testa alla coda e ritroviamo quindi i nodi nell'ordine stesso in cui li abbiamo inseriti. Se volete possiamo parlare di first in, first out in questo caso. Il primo che ho inserito è il primo che in ordine naturale da testa a coda viene elaborato. Ci fermiamo. L'algoritmo che cerca alla fine della coda è anche alla base della ricerca di un nodo. Vi invito quindi come compitino a implementare una funzioncina che ricevendo il necessario, non c'è molto da scegliere, restituisce il puntatore al nodo effettivamente localizzato in base a un criterio di ricerca, oppure il null pointer, per dire no, questo nodo non esiste nella lista, mi ha fatto cercare una cosa che non c'è. Metteteve la prova. A risentirci.